E ogni persona che ha accettato Cristo accetterà anche la missione di uno che vede il futuro? E quindi quando noi per esempio sviluppiamo la previsione pilotante allora vediamo il futuro felice. E quindi questa è la missione di uno che vede il futuro, cioè vedere il futuro felice e soprattutto vedere il futuro felice eterno per tutti, è proprio una missione. E quindi così risulta che ognuno che accetta Cristo, Gesù Cristo, riceve la soluzione. E la risposta a qualsiasi domanda, a qualsiasi problema perché accetta Cristo in più può anche accettare questa missione di profeta ed ecco perché anche il problema viene risolto. E quindi ognuno invece che ha rifiutato Cristo alla fine potrà anche stare su questa strada verso Dio se accetterà Cristo in se stesso. Io vedo la possibilità a ognuno di vedere l'essenza degli eventi che si stanno verificando. Ma non ognuno vuole apprenderle. E le eventi sono tali che l'insicurezza e quindi i dubbi non sono più opportuni, non sono più appropriati. Quindi come noi rispettavamo che il nostro pensiero per esempio durante le lezioni scorse abbiamo visto che per esempio il nostro pensiero trasmette la persona, la trasferisce dal passato nel presente. E quindi ecco perché non possiamo permetterci dubbi. E quindi sicuramente le conoscenze, la fiducia, la fede ci danno questa sicurezza assoluta. rigida questa capacità anche di usare le tecnologie senza dubbi. Quale domanda che ha il nostro pensiero che ha un significato molto preciso e anzi possiamo anche definirlo come un significato categorico. Nel senso del suo compito è la costruzione del mondo indistruttibile. E l'uomo in questo sistema è come il mondo, quindi l'uomo in questo mondo è come il sistema quindi del riflesso di queste conoscenze. Lui ci ha dato questa conoscenze. Quindi noi le utilizziamo e quindi così creiamo attorno a noi questo mondo indistruttibile. Quindi noi siamo come il sistema della manifestazione delle conoscenze di Dio. Quindi questa venuta di Cristo in realtà è semplicemente anche un messaggio per tutti sulla grandezza di Dio. E quindi questo messaggio è stato inviato a ogni persona, è stato dato a ogni persona. E quindi parlando di tutto ciò che ci racconta Gregorio Petrovic, noi mentre lo ascoltiamo, percepiamo tutto questo, visualizziamo tutto questo, cerchiamo di sentire come è. E noi sappiamo che nella base del concetto della luce. Sta il fatto che noi possiamo percepire tutti i fenomeni della realtà sotto forma dell'ottica, sotto forma di luce. Ecco perché quindi ora cerchiamo di trovare questa ottica giusta.